Ciao, sono Gaia, sono la più piccola tra di noi e ho conosciuto uno di tutti. Sono stata assunta per un motivo ben specifico, che è la mia bravura soprattutto in questo lavoro, che dai miei titolari viene in età, perché apprestano molto il mio modo di pormi con le persone, di parlare, di sorridere, è quello che soprattutto cade all'occhio per primo. E niente, ho conosciuto Martina e Carlotta perché lavoravamo assieme l'anno scorso e ho deciso di seguirle in questo percorso barra follia che vanevano intraprendere, siamo venute qua e abbiamo iniziato tutti assieme. Qui ho conosciuto Tania e la Donatella e adesso basta, stiamo lavorando tutte assieme. Grazie